L'azienda inizia tanti anni fa con i padri fondatori che l'hanno fondata 60 anni fa e sono i nostri genitori e si occupa sostanzialmente nel campo legname di fornire delle specifiche per la Belgo Prof e la Belgo Brico che servono rispettivamente il professionista e il dettaglio. Per quanto riguarda il professionista, la Belgo Prof e la Belgo serve semi lavorati, legname, serramenti, porte blindate. Per quanto riguarda invece il privato ha un negozio con una miriade di articoli e una miriade di servizi dedicati al privato, propriamente per tutte le esigenze del privato, anche di fare legnameria. Questa è la mission del negozio. Noi siamo già fondatori da 20 anni di un consorzio che raggruppa circa 30 negozi in tutta Italia di medi e piccoli negozianti come noi dai 3.000 ai 5.000 metri quadri e da questa esperienza siamo riusciti, il presidente Castelli ci ha interpellato e abbiamo aderito con grande volontà a questo progetto che ci sente molto vicini a Varese Palacanestro o Open Job Metis perché siamo tanti anni nel territorio come pure la Palacanestro e tanti anni nel territorio. Quindi abbiamo aderito con grande spirito di collaborazione e possiamo dire che le motivazioni sono due perché siamo un'azienda del territorio e abbiamo seguito il basket tutti questi anni anch'io ho giocato nella vecchia Mobile Girji tanti anni fa e per incontrare magari delle aziende del territorio con cui fare rete e business questa è un po' la motivazione di questo concetto.